Quattro minuti da Marta, due minuti da Giulia, uno da Sara. Ogni minuto in più aiuta la ricerca contro il tumore al seno della Fondazione Veronesi. Lines sostiene Pink is Good. Ogni pacco vale un minuto. Inserisci il codice che trovi all'interno sul sito Lines e doni minuti alla ricerca. Pink is Good. I tuoi minuti aiutano a vincere.